io che portai da natura un temperamento meno che tiepido dovetti forse a questa circostanza di andare esente dal disordine che deriva nel nostro stato morale dalla precocità dei sensi per quanto mi ricorda le battaglie dell'anima si svegliarono in me prima di quelle della carne ed appresi per fortuna ad amare prima che a desiderare ma il merito non fu mio non fu colpa della pisana se la caparbietà, l'arroganza e l'ignara malizia infantile fomentarono la sua indole impetuosa, varia, irrequieta e gli istinti procaci, vehementi, infedeli dalla vita che si lasciò menare essendo bimba e zitella sorsero delle eroine e mai delle donne avvedute e temperanti non delle buone madri non delle spose caste né delle amiche fide e pazienti sorgono creatura che oggi sacrificherebbero la vita ad una causa per cui domani non darebbero un nastro appressa poco la scuola dove si temprano le momentane le grandissime virtù e i grandi e duraturi vizi delle ballerine delle cantanti, delle attrici e delle avventuriere la pisana mostrava fin da fanciulletta una rara intelligenza ma questa le si veniva viziando fin da allora fra le frivolezze e la vanità a cui era lasciata in balia la moglie del capitano Sandracca la signora Veronica che le faceva da maestra durava una bella esperienza a raccogliere per un quarto d'ora il suo cervellino nella riga che le toccava compitare sicura da prendere tutto con somma agevolezza la ragazzina studiava il primo pezzo della lezione e lasciava il resto ma così anziché fortificarsi con la facilità dell'imparare si generava in lei quella di dimenticare le lodi talvolta la spronavano a mostrarsene degna ma poco stante qualche capricciole faceva porre da un canto questa breve ambizioncella avvezza a condursi con la sola regola del proprio talento la voleva cambiare divertimenti e occupazioni ogni tratto non sapendo che questo è il vero mezzo per annoiarsi di tutto per non trovare più né requie né contento nella vita e per finire col non sentirsi mai felici appunto per volerlo essere troppo e in cento modi diversi la scienza della felicità è l'arte della moderazione ma la piccina non poteva vedere tanto oltre e spizzarriva così poiché gliene davano ampia facoltà superba di comandare ed essere la prima in tutto e di veder le cose ordinate a modo proprio non è strano che ella cercasse accomodarle con la bugia quando non le conosceva tali da indurre negli altri l'opinione altissima che la voleva far concepire di sé siccome poi tutti la adulavano e fingevano di crederle e la pigliava sul serio cotalda benaggine e neppure assicurava di render verosimili le sue fandonie soventi accadeva che per dar ragione a una ne dovesse inventare due e quattro poi per portare avanti queste due e così via di seguito fino all'infinito ma la era di una fecondità ed una prontezza prodigiosa senza mai scomporsi o mostrare timore che altri non credesse o curarsi degli impicci che le potessero derivare dalla sua fintazzine credo che la si avvezzasse tanto a farla comica che a poco a poco non sapea nemmen di cernene in sé stessa il vero dall'immaginario io poi costretto sovente a tenerle il sacco lo teneva con tanto malgarbo e si scopriva tosto il marrone ma mai che la perciò mostrasse dispetto o l'increscimento sembrava che fosse già disposta a non aspettarsi di meglio da me o che si credesse tanto superiore da non doversi le sue asserzioni porre in dubbio per la contraria testimonianza di un terzo è vero che i castighi toccavano tutti a me e che almeno per questo lato la sua imperturbabilità non aveva nulla di meritorio mi toccavano purtroppo frequenti e salati perché i miei spassi giornalieri con lei erano una continua infrazione ai precetti della contessa e senza sindacare di chi fosse il torto la colpa punita prima era la mia perché la più patente le recidiva d'altronde nessuno avrebbe osato castigare la contessina all'infuori di sua madre e costei per solito non se ne dava pensiero più che di una figliuola altrui per la pisana c'era la donna dei ragazzi e fino a che non avesse dieci anni la vigilanza materna si doveva limitare a pagare due ducati al mese alla Faustina dai dieci anni ai venti il convento e dai venti in su la provvidenza ecco la maniera d'educazione che secondo la contessa doveva bastare per isdebitarla di ogni dovere verso la prole femminile la Clara era uscita di convento ancora tenerella per far l'infermiera alla nonna ma la stanza della nonna le tenea invece di monastero e la differenza non istava in altro che nei nomi quella cara contessa abbandonata dalla gioventù e dalle passioni che pur le aveano dato sentore di qualche cosa che non fosse proprio lei erasi talmente riconcentrata in se stessa e nella cura della propria salute temporale ed eterna che fuori del rosario ed una buona digestione non trovava altre occupazioni che le convenissero si aggucchiava calze era per abitudine o perché nessuno aveva la mano tanto leggera da far maglie abbastanza flosce per la sua pelle delicata in quanto alla sorveglianza casalinga la ci batteva sodo perché serrando gli occhi indovinava chi avrebbe fatto star troppo allegra la famiglia e l'allegria negli altri non le piaceva quando ne aveva così poca per lei l'invidia è il peccato o il castigo delle anime grette e io temo che la mia cuticagna dovesse i suoi quotidiani martiri alla rabbia della contessa di sentirsi vecchia e di vedermi ancora fanciullo per questo anche ella odiava Monsignor Orlando al par di me quel viso di cuor contento e quelle mani incrocicchiate sulla pancia come a trattenere un soverchio di beatitudine le davano la stizza e non la poteva capire come si potesse diventare vecchi così allegramente caspita la ragione della differenza c'era Monsignor Orlando aveva collocato ogni sua compiacenza nei contentamenti della gola la quale è una passione che può sfogarsi e meglio forse anche nell'età avanzata ed ella al contrario cosa volete non voglio dirne di più ora che il suo scheletro sarà purificato da cinquant'anni di sepoltura intanto si diventava grandicelli e i temperamenti si profilavano meglio e i capricci prendevano già figura di passioni e la mente si destava a ragionarvi sopra già l'orizzonte dei miei desideri sarà allargato poiché la cucina il cortile la fienaia il ponte e la piazza non mi tenevano più vece d'universo io voleva vedere cosa c'era più in là e abbandonato a me stesso ogni passo che arrischiava fuori della solita cerchia mi procurava quelle stesse gioie che ebbe a provare Colombo nella scoperta dell'America la mattina mi alzava per tempissimo e mentre la Faustina era occupata nei fatti di casa o giù nelle camere della padrona scusciava via con la pisana nell'orto o in riva alla peschiera quelle erano le ore nostre più beate nelle quali la birboncella si infastidiva meno e ricompensava più amicovolmente la mia servitù sovente poi ho notato che il tempo mattutino è più propizio alla serenità dello spirito e che in esso anche le nature più artificiose ritrovano qualche sospiro di semplicità e di rettitudine col crescere del giorno le abitudini e i rispetti umani si signorezzano sempre più e verso sera e a notte inoltrata si osservano le smorfie più grottesche i discorsi più bugiardi e gli assalti più irresistibili delle passioni forse sarà anche per questo che le ore del giorno si vivono più comunemente all'aria aperta nella quale gli uomini si sentono meno schiavi di se stessi e più obbedienti alle leggi universali di natura che non sono mai pessime non dirò peraltro che la pisana mutasse anche sentendosi da sola con me le sue maniere di muoversi e di parlare mi accorgevo benissimo che l'apprezzava più assai la mia ammirazione che l'amicizia o la confidenza e che per quanto ristretto e abituale io non cessava di essere per le sue pantomime una specie di pubblico tuttavia doveva scrivere che me ne accorsi poi non che me ne accorgeva allora allora io godeva di quei suavi intervalli stimando anzi che quella pisana così premurosa di essermi gradita fosse la vera e fossero effetto della trista compagnia i cambiamenti che succedevano nelle sue maniere durante la giornata allora di messa era Monsignor Orlando che la celebrava nella cappella del castello tutta la famiglia padroni servi fattori impiegati e ospiti si raccoglieva nei banchi destinati alla varia autorità delle persone il signor conte occupava solo nel coro un genuflessorio rimpetto alla cattedra del celebrante e là riceveva con molta gravità i saluti di Monsignore quando usciva o rientrava nonché le tre profumate di incenso se la messa era cantata nelle benedizioni solenni o negli oremus il celebrante non si dimenticava mai di benedire e nominare con un profondo inchino l'eccellentissimo e potentissimo signor Ius Patrono e giurisdicente e questi allora volgeva in tutta la chiesa un'occhiata a mezz'aria che sembrava quasi misurare l'eccellsa altezza che lo divideva dal greggio dei vassalli il cancelliere il fattore il capitano il portinaio e persino le cameriere e la cuoca assorbivano quel tanto che veniva loro di quella occhiata ed abbassavano altre simili occhiate sopra la gente che occupava nella cappella un posto inferiore a loro il capitano in quelle circostanze s'arricciava anche i mustacchi e poneva rumorosamente la mano sopra l'elsa della spada finite le funzioni tutti restavano col capo basso in gran raccoglimento ma volti verso l'altare del rosario se la funzione era stata sull'altar maggiore o viceversa finché il signor conte si alzava si spartiva dinnanzi un bel tratto d'aria con un gran segno di croce e rimessosi in tasca il libro d'orazione il fazzoletto e la scatola muoveva grave e steccato verso la pila dell'acqua santa là un nuovo segno di croce e poi usciva dalla chiesa dopo aver salutato l'altar maggiore con un lieve cenno del capo gli venivano dietro la contessa con le figlie e i parenti e gli ospiti che si inchinavano un tantino più indi i servi e gli ufficiali che piegavano un ginocchio e poi i contadini e la gente del paese che li piegavano tutti e due adesso che il signore ci sembra molto molto lontano può anche sembrare ugualmente distante da tutti i ranghi sociali come il sole che non riscalda certamente più la cima che la base di un campanile ma allora che esso era tenuto abitar più vicino d'assai le maggiori o minori distanze erano facilmente osservabili e un feudatario gli si stimava tanto più vicino di tutti gli altri da potersi anche permettere verso di lui qualche maggior grado di confidenza di solito mezz'ora d'innanzi la messa quotidiana io ero cercato per servirla a Monsignore il quale intendeva darmi con ciò un segno della sua speciale deferenza a scapito dei figliuoli di Fulgenzio ma io che non mi sentiva gran fatto riconoscente di questa distinzione sapeva prendere le mie misure in modo che chi mi dava la caccia tornava il più delle volte con le mani vuote alla sacristia di consueto io mi rifugiava presso Mastro Germano e non riusciva dal suo buco se non quando era sonata l'ultima campanella in quel frattempo avevano già messo la cotta a Noni e a Menichetto i quali con i loro zoccoli di legno correvano sempre il pericolo di rompersi il naso sugli scalini nel cambiare di posto al messale e io entrava in chiesa sicuro di averla scapolata siccome poi queste mie arti furono in breve scoperte così me ne toccarono molte ramanzine per mano di Monsignore dinnanzi al focolare di cucina ma io mi scusava della mia ripugnanza dicendo che non sapeva il confiteor e infatti per giustificare questa mia scusa le poche volte che era beccato aveva sempre l'accorgimento di tornare a capo una volta giunto al mea culpa e per due tre e quattro volte ripeteva una tale manovra finché Monsignore impazientato lo finiva lui quei giorni nefasti aveva poi la compiacenza di star chiuso in un camerino sotto la colombaia col libricciolo della messa un bicchier d'acqua e un pane bigio fino a un'ora dinnanzi i vespri io mi divertiva immollando il libro nell'acqua e sminuzzando il pane ai piccioni e poi quando Gregorio il cameriere di Monsignore veniva a sprigionarmi correva da Martino presso il quale era certo di trovare il mio pranzo peraltro durante quelle ore aveva il dispetto di udir la voce della pisana che si trastullava con gli altri ragazzotti senza darsi melanconia per il mio carceramento e allora mi prendevo una tal bile contro il confiter che lo facevo in pallottole e lo gettavo giù nel cortile sopra quei birboncelli assieme a quanti sassuoli e calcinacci poteva raccattarne i canti e raspar dalla muraglia con le unghie talvolta anche squassava con quanta forza poteva la porta e le dava addosso coi gomiti coi piedi e con la testa e dopo una mezz'ora di tali strepiti il fattore non mancava mai di venire a ricompensarmene con quattro sonate di staffile e questa dose si replicava la sera quando scoprivano che io aveva tutto fradicio e guasto il mio libricciuolo non mancava mai